A circa tre settimane di distanza dalla morte, la salma del 56enne Rosetano Antonio Straccialini, da anni residente in Australia, ucciso da un grande squalo lo scorso 18 marzo a Sant'Andreas in Colombia, è rientrata nel comune costiero dove è nato e vissuto fino al 1999. La ditta di un'oranza e funebre incaricata dalla famiglia ha prelevato la salma ieri a Roma all'aeroporto di Fiumicino e da questa mattina è stata allestita la camera ardente nella casa funeraria Ruggeri Antonio nella zona industriale di Voltarrosto, mentre i funerali si svolgeranno domani alle ore 16 nella chiesa del Sacro Cuore. Una notizia quella della scomparsa di Straccialini che ha colpito l'intera comunità rosetana. La sua famiglia e i suoi numerosi amici lo hanno ricordato come una persona amante dei viaggi e del mondo, ben voluta e molto conosciuta in città. Per anni è stato anche istruttore di nuoto dell'ASD Rosetana Nuoto. Certamente una ferita nel cuore di una comunità, una comunità che piange e che soffre per tutti i suoi membri che ovviamente soffrono e che abbandonano questo mondo. Quella di Antonio sicuramente è stata una storia che ha colpito i rosetani e non solo per la violenza con cui è stato strappato dalla vita e per la lontananza da quelli che sono gli affetti più cari, la famiglia e la propria città di origine. Non conoscevo Antonio ma in queste settimane ho avuto modo di apprezzarne i grandi valori e la grande personalità grazie ai racconti degli amici, alcuni dei quali conosco anche molto bene. La discrezionalità e la grande dignità con cui la famiglia ha vissuto questo lutto, la ringrazio a nome di tutta la collettività, ha colpito anche. E quindi domani ovviamente ci sarà questo ultimo saluto da parte della parrocchia del Sacro Cuore, della comunità rosetana, ad un suo figlio che non c'è più ma che ovviamente avendo visto con i suoi occhi da rosetano tutto il resto del mondo ha portato un po' Roseto in tutto il mondo. Grazie. Grazie.